A Edoardo, Davide e Filippo, per non dimenticare. Nascere ebrei Il 5 settembre 1938 ho smesso di essere una bambina come le altre. Prima di allora, essere ebrea significava per me venire esonerata dall'ora di religione. Mentre tutte le alunne restavano in classe, io e i 4 o 5 compagni correvamo libere nel corridoio. Prendevamo lunghe rincorse per poi lanciarci in ardite scivolate sul pavimento incerato dai bidelli. Le nostre compagne ci invidiavano molto. Non ricordo di aver mai sentito pronunciare la parola ebreo a scuola né dalle allieve né dagli insegnanti. Del resto io stessa ne conoscevo a malapena il senso. La mia era una famiglia di ebrei laici, come lo era la maggior parte delle famiglie di ebrei italiani. Non ci attenevamo alla Cascirut. In casa nostra si mangiava di tutto e non frequentavamo mai la sinagoga. Sono entrata una sola volta da bambina in una sinagoga. Nel tempio di Via Guastalla si celebravano le nozze di Ornella Calabi, sorella di Tuglia, il cui padre era cugino di mio nonno e io ero stata chiamata a fare da damigella. Conserva un ricordo vago di quel giorno. Reggevo il velo della sposa con la sensazione di trovarmi in un teatro, al centro di una recita. L'ebreismo, nelle sue implicazioni più profonde, come nella sua ritualità quotidiana, allora mi era completamente estraneo. Ho trascorso l'infanzia in casa dei nonni paterni, Olga e Pippo Segre. Mia mamma, Lucia, era morta a 26 anni per un tumore all'intestino e mio papà, Alberto, rimasto vedovo a 31 anni con una bambina di pochi mesi, aveva deciso di tornare a vivere dai propri genitori. Mio nonno era un uomo di umili origini, che dal niente aveva creato una ditta solida, assicurando alla famiglia un discreto benessere, una bella casa in corso magenta e persino una piccola scuderia. Era una persona pratica e determinata e per quanto avesse un titolo di studio modesto, aveva voluto che i suoi figli frequentassero l'università. Mio padre si laureò alla Bocconi. Ateo convinto, amava vivere nel presente e non si poneva troppe domande su quello che lo attendeva dopo la morte. Per lui l'aldilà era il grande nulla, non un luogo di beatitudine. Si atteneva a pochi e solidi principi e fu capace di trasmetterli ai suoi cari, mai avere debiti, mai fare il passo più lungo della gamba. Tanta forza d'animo, però, nulla poté contro la malattia. Fu colpito dal morbo di Parkinson e nel giro di poco tempo cominciò ad avere tremori in tutto il corpo. Dovette lasciare il lavoro, che per lui era la vita e divenne un relitto. Necessitava di assistenza in ogni momento del giorno e della notte. La nonna Olga lo aveva sposato molto giovane, a 17 anni, con un matrimonio combinato. Era una donna umile e alla buona, con pochi interessi, che si occupava personalmente delle faccende di casa e usciva solo per fare la spesa, mentre le signore bene lasciavano fare tutto alla donna di servizio. Non sopportavo la sua ingenuità, le sue superstizioni. Un gatto nero, l'olio rovesciato, un cappello lasciato sul letto o un ombrello aperto in casa la riempivano di terrore e io, con cattiveria sottile, facevo di tutto perché questi segni di sventura si materializzassero puntualmente sotto il suo naso. Era la vettima prediletta dei miei dispetti, dell'impazienza che allora suscitavano in me le persone lente e poco brillanti. Non ero molto affettuosa con lei, anche perché la confrontavo inevitabilmente con Bianca, la mia nonna materna, alta, elegante, con splendidi capelli bianchi e un filo di perle perennemente al collo. Bianca era il mio idolo. Era per me una regina piena di fantasia e sempre pronta a giocare, mentre Olga incarnava tutte le caratteristiche della femminilità da cui una ragazzina spericolata come ero io non poteva che allontanarsi. Era servizievole e ubbidiente, non diceva mai una parola fuori posto e faceva tutto quello che le si diceva di fare. Quando nel 1942 su Milano cominciarono a piovere le prime bombe, veniva dalla paura, cadeva in deliquio e occorreva farla rinvenire con i sali. A ripensarci, aveva ottime ragioni per spaventarsi, ma a me sembrava tutta una messa in scena. Ero solo una ragazzina e vivevo ogni cosa come un'avventura. Da anni il suo ricordo mi riempie di rimorsi e mi imbarazza molto pensare a quanto sono stata ingiusta con lei. Nonna Olga ha affrontato con eccezionale forza la malattia del marito, dedicandosi a lui con amore e dignità nell'ora del suo inesorabile declino e ha poi vissuto con grande coraggio la tragedia della Shoah. Mio papà, Alberto e mio zio Amedeo erano affettosissimi con i loro genitori. Lavoravano entrambi per conto del nonno. Papà si occupava della parte economica e suo fratello di quella commerciale, girando per l'Italia come rappresentante. avevano solo un anno di differenza e si volevano molto bene, ma erano supposizioni politiche nettamente distinte. Mio papà era del dicembre 1899 ed era stato richiamato dopo Caporetto come tutti i ragazzi del 99. Aveva quindi partecipato alla grande guerra solo per pochi mesi. Lo zio invece, nazionalista convinto, aveva combattuto in trincea ed era stato decorato. tornato dal fronte era rimasto scandalizzato dal fatto che a Milano i rossi sputassero sui reduci e fu forse anche per questo che con l'avvento di Mussolini diventò un sansepolcrista, un fascista della prima ora. Faceva parte di uno dei primi nuclei formati in città, il gruppo orionale Crespi di Porta Magenta che si riuniva sopra il biffi di Piazza Baracca. Era il tesoriere della sezione e quando il fascismo gli voltò le spalle lo visse come una beffa atroce. Con tutti i soldi che ho dato al gruppo, commentava amareggiato. Mio papà era invece pessimista e disilluso, detestava Mussolini ed era profondamente antifascista. In famiglia regnava un clima di totale rispetto reciproco, ma papà non perdeva occasione per cercare di smorzare gli entusiasmi del fratello. Amedeo, tu ti sbagli, continuava a ripetergli. Non sopportava le parate, i gerarchi carichi di decorazioni e le lezioni di ginnastica di Achille Starace, come istintivamente non le sopportavo io. Ma a quelle manifestazioni di forza, a quelle spacconate così tipiche del fascismo, non c'era modo di sottrarsi. Oltre che in strada e a scuola, toccava vederle anche al cinema. Il nonno mi ci portava spesso, andavamo al Dalverme o all'Eden di Largo Cairoli e quando le gambe smisero di reggerlo fu mio padre ad accompagnarmi. Prima dell'inizio del film in sala veniva proiettato il cinegiornale Luce e lui non riusciva a trattenersi. Quei servizi per celebrare il regime, quegli spezzoni con tronfi gerarchi impettiti nel saluto romano lo facevano contorcere sulla poltroncina e commentare ad alta voce e lo stesso accadeva se nei filmati appariva qualche alleato tedesco o giapponese. Sentivo che il suo comportamento poteva essere pericoloso ma solo in modo confuso ero troppo piccola per rendermi davvero conto del rischio che correvamo. Mio padre era un uomo sobrio e austero e molto esigente con me perché voleva essere sicuro di educarmi nel modo giusto. Mi faceva da papà e da mamma quindi era severo ma aveva sviluppato nello stesso tempo una dolcezza femminile che non mi fece mai realmente sentire la mancanza di una mamma. Quando volevo mangiare la verdura per punizione mi mandava in cucina se solo avesse saputo quanto mi divertiva stare fra le domestiche. Parlottavano tutto il tempo dei loro fidanzati e fra una confessione e l'altra scappava sempre qualche indiscrezione. fu proprio da loro che appresi che mio zio aveva un'amica una mantenuta come si diceva allora di modesta estrazione sociale eh Amedeo alla fidanzata che è commessa la rinascente la mia balia una donna curiosissima mi portò un paio di volte alla rinascente per capire chi fosse. L'interesse intorno a questa misteriosa signorina che si chiamava Enrica si spense quando nel 1937 lo zio eterno scapolone si decise finalmente a sposarla. Verso la fine dell'estate del 1938 la mia vita d'improvviso cambiò. Avevo otto anni e mio papà aveva preso in affitto una villetta a premeno sul lago Maggiore. Era convinto che in quel periodo dell'anno il clima del lago fosse un toccasana ma io mi annoiavo moltissimo. Un giorno mentre eravamo a tavola insieme ai nonni sentimo alla radio che da novembre gli ebrei avrebbero subito una serie di restrizioni. Quel momento è rimasto impresso nella mia memoria come un fermo immagine. Di quell'attimo ricordo tutto il volto della domestica ritta in piedi che serviva dal piatto da portata i dettagli della sala da pranzo l'ordine in cui eravamo seduti le espressioni di mio papà e dei miei nonni mi guardarono e mi comunicarono che non avrei più potuto andare a scuola non avrei potuto frequentare la terza elementare io ero figlia unica orfana di madre e anche per questo andavo a scuola volentieri ho sempre avuto un temperamento molto socievole ed ero piena di amiche improvvisamente venivo espulsa dal mio mondo quella parola espulsa pronunciata da mio padre fu per me uno shock quando a un bambino si dice sei stato espulso da scuola lui si convince di aver fatto qualcosa di sbagliato è stato espulso perché ha una colpa e infatti replicai ma perché che cosa ho fatto ci volle molta pazienza e grande tenerezza per farmi capire per quanto potessi capire allora che non ero stata io ad aver fatto qualcosa di male si trattava di una legge che aveva stabilito che tutti gli ebrei dovessero essere espulsi dalla scuola e da molte altre attività in quell'autunno fu promulgata un'infinita serie di divieti che a poco a poco ci avrebbero spogliato di ogni diritto le famose leggi razziali gli individui di razza ebraica furono espulsi dall'esercito dalla pubblica amministrazione dalle università dalle assicurazioni e dalle banche fu vietato loro di esercitare moltissime attività commerciali di possedere immobili e aziende oltre un certo valore di sposarsi con ariani di prestare servizio nelle loro case o semplicemente di possedere un apparecchio radiofonico qualche giorno dopo torniamo a Milano alle mie spalle il papà e il nonno parlavano a bassa voce e abbozzavano mille ipotesi su cosa sarebbe stato meglio farmi fare in ogni città gli ebrei stavano organizzando scuole private scuole ebraiche dove i bambini avrebbero potuto continuare a studiare ma mio papà non ne voleva sapere lui stesso non aveva mai frequentato l'ambiente ebraico al di fuori della cerchia dei parenti il giro dei suoi amici era pieno di cognomi di persone che non avevano niente a che fare con il mondo ebraico Civelli Bernasconi Moia e tantissimi altri erano amici dei tempi dell'università o persone con cui aveva legato frequentando le corse a San Siro alla fine prevalse la proposta di mia zia Enrica che era cattolica convinse la famiglia che per mettermi in salvo avrei dovuto assolutamente essere battezzata e consigliò a mio padre di scrivermi all'istituto delle marcelline lei aveva già discusso il mio caso con le suore che le avevano detto noi prendiamo questa bambina ma a patto che si batteggi un giorno ci portò anche me e devo dire la verità quell'universo di veli fruscianti e di sole donne allora era una scuola esclusivamente femminile non mi dispiacque affatto andammo in chiesa a vedere Gesù Bambino e notai che in tutto quel che mi circondava c'era qualcosa di armonioso di gentile gentile mi sembra l'aggettivo più adatto gentile nei miei confronti e a quel punto mi annunciarono che sarei stata battezzata io che non avevo mai sentito parlare di religione non sapevo nemmeno che cosa significasse così un pomeriggio dell'ottobre 1938 con il papà i nonni segre e la zia che mi faceva da madrina andamo alla chiesa di San Vittore i miei nonni i materni i foligno pur essendo blandamente religiosi si dichiararono contrarissimi e non si presentarono non si battezzarono mai né si iscrissero al partito fascista il nonno avvocato Alfredo Foligno restò massone fino all'ultimo fu una giornata terribile mi ritrovai vestita di bianco con un abito compratomi per l'occasione in una cerimonia che non comprendevo mio padre ateo convinto piangeva come un pazzo dietro a una colonna lo vedi e cominciai a piangere anche io l'acqua del fonte battesimale le mie lacrime divennero una cosa sola finito questo rito tra singhiozzi lacrime e disperazione andai con mia zia Enrica in piazza Tommaseo dove le suore marcelline un po' per scarsa sensibilità un po' per mancanza di psicologia avevano preparato una festicciola in cui alcune bambine sconosciute mi battevano le mani di quella giornata ricordo solo i pianti disperati un po' per ma Grazie a tutti.